Questa canonizzazione si pone nel cuore del Sinodo dei Giovani, proprio per l'attenzione che Montini ebbe per i giovani. Lei è padre sinodale al Sinodo, ecco come la figura di Montini può ancora illuminare queste sfide della Chiesa. Chiesa in ascolto, ha detto il Papa, prendo il Sinodo. Beh, Montini ha seguito i giovani soprattutto quando era assistente della FUCI, quindi i giovani universitari, i giovani che facevano della professionalità, la loro via verso la santità, verso il compimento della loro vocazione. Quindi a me sembra che questo è un aspetto naturalmente soltanto, ma certamente di un'attenzione che Montini ha privilegiato e quindi per esempio la stima per l'intelligenza, l'attenzione agli argomenti, la possibilità di confrontarsi in un dialogo sincero e costruttivo anche da punti di vista diversi. Quindi mi pare che questa cosa della intelligenza come risorsa e della ragione come strumento desiderabile per cercare la verità è una profezia particolarmente urgente oggi, in cui sia il tema della verità sia il tema della ragione soffrono di una prevaricazione della notizia rispetto alla verità e di una prevaricazione dell'emotività rispetto all'intelligenza. Però questo è soltanto un aspetto dell'attenzione ai giovani che Papa Montini ha avuto, il messaggio con cui si è concluso il Concilio Vaticano II, tra i messaggi c'è anche quello ai giovani che forse andrebbe proprio riletto come un segno di fiducia nella generazione giovanile. Certo è stato pronunciato alla conclusione del Concilio, quindi alcuni decenni fa, però questa fiducia che i giovani possano essere una promessa e possano essere una novità per la Chiesa e per la società, mi sembra che è tanto urgente ripeterlo oggi. Questa canonizzazione celebra in qualche modo anche l'attualità di Papa Montini. In che cosa è particolarmente attuale oggi? Beh, questo che venga da tutti riconosciuto e venerato come santo, dice che l'attualità di Montini è la capacità di interpretare il tempo che ha vissuto e l'epoca moderna. Quindi mi pare che la grandezza di questo nostro arcivescovo diventato Papa e ora canonizzato è quello di leggere il presente come un presente propizio all'evangelizzazione, come un mondo che pone drammaticamente alcune questioni e sulle quali la Chiesa ha qualche cosa da dire. Grazie. Grazie.